Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, siamo tornati oggi con il push to the top che penso mancasse da mesi e mesi e mesi da un mese in realtà dai, da un mese abbiamo oggi un team che non so se sia proprio potenzialmente da push to the top perché è un po' un mezzo meme mi dicono però era uno dei più seri che avevo quindi capite voi anche quello che ho allora il team tra l'altro è quello della squadra 3, non della squadra 2 quello della squadra 2 l'abbiamo già giocato la volta scorsa e non vado di là nella squadra 3 perché poi vedete il team della squadra 4 che ho già messo stupidamente e voglio che sia una sorpresa anche se molti di voi credo lo sapranno per il prossimo puoi dire la sua e allora oggi abbiamo questo team qua con Venus, Aurtorkle, Charizard, Conkellur, Togikis e Dusclops allora vi vado a dire tra l'altro il team del buon Alessandro Fantinato che ringrazio che mi ha passato il team allora Venusaur, Sesh con Leafstorm, Sludge Bomb, Sleep Powder e Protect potenziale Dynamax del team tra l'altro vabbè Torkoal, Weakness Policy con Earth Power, Heat Wave, Solar Ream e Protect ci sta la Weakness Policy poi vabbè se la fa triggerare da Dusclops dopo vedrete o comunque in generale è molto facile triggerare la Weakness Policy a Torkoal basta una mossa acqua sotto il sole che gliela triggera in due secondi poi abbiamo Charizard Gigamax, Life Orb con Heat Wave, Air Slash, Protect e Solar Beam ci sta tutto 2-5-2-5-2, perfetto con Keldur, Flame Orb ovviamente classico con Guts Drain Punch, Mac Punch, Ice Punch e Detect perché la Protect non ci fa schifo, usiamo Detect Togekiss, Scopelance Air Slash, Dazzling, Follow Me e Protect Dusclops e Violite, ovviamente solito con Nightshade, Painsplit, Build, The Trick Room che ci sta Nightshade è cos'è? quella mossa lì che toglie sempre lo stesso danno mi pare Painsplit è quella che dimezza la vita se tu lo fai su uno che è full vita, tu sei metà vita diventate tutte e due, vi smettate la vita insomma non mi ricordo neanche come si chiama in italiano vabbè, e il resto direi che non c'è molto da fare mi hai anche detto un po' le lead che si usano solitamente quindi vediamo che cosa possiamo fare tra l'altro io vi ricordo di lasciare un bel mi piace già da ora per chi almeno è arrivato fino a qua no vabbè sto scherzando vi ricordo di lasciare un bel mi piace già da ora per supportarmi e preparatevi che il prossimo video sarà un video abbastanza speciale cioè, un video a cui tengo e basta quindi ci sta e nel prossimo video infatti vi dirò anche un paio di cose abbastanza importanti tra virgolette vediamo un attimo cosa succederà per il resto direi che possiamo andare in buttespot ok, finalmente trovo l'avversario, Lucas ok, dobbiamo salire tra l'altro di rank sta lega mega ne ero più il massimo allora, Lucas gioca allora Tog, Kiss, Lucario, Dragofish Snorlax, Whims e Cochari Zarda, ok allora, lui mi ha detto chi non ha risposte solidissime a Trick Room l'indare direttamente da Ascolops e Torkoal allora, questo tizio si, ha risposte a Trick Room più o meno cioè c'è Snorlax però contro con Keldur non se la passa proprio benissimo qua con Keldur direi che devo portarlo abbastanza per forza e devo mettere Trick Room a tutti i costi qua in realtà potrei anche gli dare Torkoal e Venosaur prima che lui sicuro quasi sicuro deve gli dare Whimsicott perché contro contro sia contro Dusclops che contro Venosaur deve fare Taunt al turno 1 io farì così Dusclops Torkoal dietro con Keldur e Togekiss tra l'altro non mi ricordo neanche più le mosse Smogibrily sono qua sono qui sì, sono qua non lo so non saprei chi portare come ultimo onestamente dai direi Togekiss direi Togekiss proviamo Togekiss perché è un mix che può fare bene contro un po' tutti perché Drago Fish ci può fare male e non poco ok tra l'altro nella musica del campione qua di Galar riusciamo ad andare comunque sono vestito esattamente come lo ero l'altra volta ho spostato sì ho spostato la webcam e ho l'abitudine di guardare sempre chi è nel computer ok lui li da Charizard e Wimsicott perfetto e vabbè teniamo sta sta cosa qua altrimenti ok allora Charizard è ovviamente è ovviamente Life Orb che farà un mare assurdo allora quasi quasi io farei ombra notturna cioè doppio Wimsicott perché boh qua E-Tweb non se lo può prendere nessuno bene qua lui arriverà un taunt grande come una casa secondo me quindi c'è poco da fare c'è poco da fare arriverà un taunt grande come una casa su su Wimsicott eh su Last Clops e lui non lo so ha dinamaxato Charizard presumo ha gigamaxato ok gigamaxato non so neanche se si possa dire comunque ha Charizard gigamax e ci ammazzerà sicuramente Last Clops ha fatto Tailwind ah ok ha senso forse allora perché pensa cioè sicuramente ci one shot a Dusclops con no non ce l'ho one shot io potevo fare Trick Room e questo qua aveva perso al turno 1 perfetto io non so la gente io pensavo che la gente avesse un attimo imparato a giocare invece non no quindi ottimo così io facevo Trick Room ma avevo vinto al turno 1 ragazzi non ironicamente Trick Room ed avevo praticamente vinto cioè c'era poco proprio poco da fare vabbè lasciamo perdere io queste cose proprio non me le spiego ancora nonostante non giochi da tanto c'è ancora gente che ok siamo a leghe basse non sai quanto fanno non sai i danni le cose eccetera però comunque io provo a fare Trick Room lo stesso perché è l'unica cosa che posso provare a fare e papapà e direi che posso fare Solar Beam su Dragovish per forza il che è il bivadio il branchio morso che mi triggera la weakness policy va bene vediamo quindi dovrei forse ammazzarlo con la weakness policy non lo so vediamo Dina Jet ha doppiato Torkoal no ok non avrebbe avuto senso doppiare Torkoal effettivamente anzi avrei messo Trick Room e basta quindi allora comunque Torko comunque è ancora vivo cioè sarà vivo ancora per poco comunque fa danni anche cioè dovrei secondo me ammazzarlo con Solar Beam a più due Dracofish mi auguro vediamo non li so io i calcoli eh zzzz ai 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 questo è stato un male che reggesse io li metterei con Keldur giusto per perché ha McPunch non per altro se no potrei fare individua aspettare che finisca la che finisca il Gigamax di Charizard potrebbe essere un'idea secondo me diciamo così si individua e il Twiv al turno dopo McPunch entro con Togekiss faccio Dynamax più ehm Dynamax più Tailwind cioè no scusate no Dynamax togekiss faccio McPunch ok lui fa Dynaget che anche dietro Protect ci leva un bel po' però dobbiamo per forza fare così se vogliamo in qualche modo vincere tutto sta tra l'altro nel capire chi è il suo ultimo quindi starei un attimo a vedere ok ok rimaniamo alla fine Togekiss contro tutti secondo me che cosa perché ho fatto ok è andato nelle info non mi faceva premere A per per metterlo dentro ok va bene ok dunque qua McPunch direi per forza su su di lui Tailwind non ce l'ho quindi Dynaget su Charizard per forza e qua non c'è nient'altro da fare perché la sua Tailwind nonostante cioè penso sia l'ultimo turno di Tailwind comunque anche se non lo fosse con tutti i Dynaget che ha fatto si è boostato la speed in una maniera che ormai non ha più senso aspettare che finisca cioè tanto è già più veloce in ogni caso ok McPunch che va ovviamente di Conkeldur con Guts avrebbe fatto penso 50% a lui ok lui va di Solarbeam su Conkeldur direi a occhio e croce e che con Solar Power Life Orb ci ammazza però Dynaget un po' gli fa spero è Scopelance tra cioè Scopelance si è Scopelance non mi ricordo neanche come si chiama in italiano quindi siccome è Scopelance sto coso è crit sempre cioè 50% di crit questo siccome è stato un crit infatti vediamo un attimo no non è stato un crit vabbè ok e ci prendiamo ah ok abbiamo il coso di Gigavampa qua vabbè allora fatemi un attimo pensare a Lucario a Lucario non è proprio il massimo però direi che fa più Dynaget poi possiamo critare con lo strumento che abbiamo che dovrebbe essere vediamo ok Lucario vabbè Lucario ha delle difese un po' così va bene ragazzi abbiamo vinto la prima mamma mia io non credevo di tornare riuscire a vincerne tutte queste partite sempre considerando che siamo in Lega Bassa semmai ritornerò a Lega Master non ce la farò mai a vincere tutte queste partite io ve lo dico già dovete abituarvi e io devo abituarmi a guardare la telecamera qua e non il computer che è qua perfetto ok quindi prima vinta passiamo alla seconda dai ok avversario trovato un giapponese cinese quello che è gioca in Sion ti prego questo è un per un attimo vedendo in Sion iDragon e Grisnar l'ho pensato fosse un Monodark qui dopo ho visto Toggi che siano i Nikkyu e vabbè e Toxicity allora Toxicity che tra l'altro è uno dei miei Pokémon preferiti di ottava anzi fosse uno mio preferito quello forma gialla in realtà e lo potete capire dal banner dalla intro eccetera eccetera penso un po' l'abbiate capito comunque allora 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 qua con Keldur fa bene con i suoi 3-4 Dark è vero sempre che a Mimikyu Tokikis lo cover abbastanza bene qua potrei in realtà banalmente andare di Thor con il Venosaur sperando di Tare Sleep Powder tra parentesi e sperando di Tare Sleep Powder è vero che lui c'ha Grimsnarl però Charizard e con Keldur lascia a casa Togekiss e però c'ha i Dragon ah però in Sinair non lo batto in nessun altro modo senza Keldur quindi che con Keldur poi va bene anche più o meno per i Dragon direi che ci possiamo stare allora lui mi aspetto che lì di Grimsnarl in qualche modo per forza perché se no non ci ferma Venosaur e problema che Venosaur non so io devo Tare Sleep Powder per forza ok in Sinair Grimsnarl giuro che mi aspettavo questa lì dal 100% da parte sua quindi qua direi che per forza una protec con Venosaur è obbligatoria cioè non c'è niente da fare allora quasi quasi butterei anche con Keldur tanto Grimsnarl non ha grosse mosse che mi tocchino con Keldur quanta speed c'hai? poca perché era brave avevo visto dal 45 infatti è min speed secondo me comunque in Sinair che non ho visto se non è per tentatività o me lo sono sognato vabbè dai no fare Hitweave per danneggiare un attimo entrambi e Protect in ogni modo lui non so cosa possa fare qua o fa doppio fake out tipo che potrebbe anche farlo schermo luce ok non ha fatto neanche un fake out pazzesco come questo qui e Flare Blitz io devo smettere cioè a queste leghe tra virgolette devo smettere di sopravvalutare le persone perché a quanto pare non ha senso farlo diciamo così proviamo a hitare Sleep Powder dai se fa taunt adesso è veramente cioè poi ha fatto l'overpreddit della vita e ha detto questo qua protegge per favore di fake out faccio gli schermi faccio taunt adesso però dubito visto che tra l'altro non so neanche si possa imparare taunt lui Grimmsnarl che deduco di sì però perché vabbè a prankster c'ha gli schermi c'ha le cose varie ok Incineror che è addormentato ah ma ha messo anche il reflect vabbè ecco 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 ragazzi doppio misdito questa proprio mi mancava un sacco io butto dentro Charizard dai e faccio slip powder anche su Grimmsnarl e turno dopo faccio sludge bomb su Grimmsnarl vediamo un po' cosa succede sperando che Insignor non prenda One Tour Wake Up ok a taunt lo fa adesso taunt questo qui mamma mia ragazzi ma la gente cioè non so ok almeno dormo un altro turno dai solar power di Charizard va bene allora lui gli ho visto gli schermi taunt avrà anche non lo so boo non saprei avrà anche T-Wave spero per lui di no comunque quasi quasi tolgo Venusaur e metto Torkoal così se si sveglia fa Flare Blitz non è non si prende troppo più che altro io con Venusaur non tocco Insignor cioè gli faccio sludge bomb ok ma non è proprio granché ok prima volta che penso faccia un Gigamax da quando uscì del gioco io onestamente perché ho solo giocato for me Dynamax normali fino adesso ok va bene ok lui vediamo cosa fa con Grimmar taunt anche su Charizard ok ci può stare Gigavampa che anche con Light Screen dovrebbe ammazzarlo comunque direi proprio comunque via Grimmar dalle palle io ho tolto anche Venusaur perché così dopo senza taunt e senza niente tattoo è il secondo turno di slip che prende buono dicevo sono tolto Venusaur così dopo in ogni caso anche senza Grimmar riesce comunque a fare slip powder sotto sole più veloce di tutti che dopo infatti devo un attimo gestire il sole e guardare quanti turni mancano per decidere cosa fare con Torkoal perché mi serve il sole per forza a tutti i costi mantè in campo pokemon giapponese toxicitri ok toxicitri che dovrebbe essere più lento di charizard in teoria mi ricordo siccome l'ho provato a giocare questo charizard 167 è più lento allora a meno che non sia sesce muore da gigavampa toxicitri quindi giusto già che siamo guardiamo anche quanto non così così quanto manca di sole per regolarmi ne manca un turno allora quasi quasi ho butto conk ho butto conk intanto stavolta a sto giro in sinero si sveglia con keldur ci può andare bene anche comunque flarebeats ok ha dynamaxato toxicity sicuramente che con light screen anche se il sole diciamo che non muore ha gigamaxato è vero che hanno aggiunto il si può giocare anche il gigamax di toxicitri adesso che è bellissimo tra l'altro perché vabbè io mi piace lui mi piace anche la sua gigamax ovviamente ok però 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 se ne prende mi fa la sua giga scossa che mi one shot palesemente dynamax o non dynamax mi one shot e vediamo un attimo che cosa può mi avvelenato mi avvelenato vabbè ci sta mi sarei burnato tanto con guzz va bene sia il burn che il lui cosa fa ok ha fatto darkest lariat perché c'era torcol giusto abbiamo azzeccato la giocata tanto che figata l'innovazione di darkest lariat in ottava mi piace veramente un sacco ok allora ok lui tra l'altro perde danni dalla gigavampa e i dynamax di mcpunch è finito il sole io ributto torcol qua di mcpunch dovrebbe morire onestamente io ributto torcol e provo intanto a danneggiare incineror perché altrimenti lo lasciamo lì fino alla fine dei tempi facciamo faccio mcpunch che nonostante sia poison a quella vita lì con guzz dovrebbe bastare lo stesso infatti vabbè o a quella vita lì può essere gigamas quanto vuoi ma con keldur max attacco burnato cioè burnato insomma avvelenato con guzz non si prende proprio tantissimo pochissimo ok lui qua di flare with ci killa palesemente perché sotto il sole si ne fa un po' di danni si prende un bel recol vediamo di air power quanto gli facciamo prego non mandiamo le range di bacca non è il range di bacca ok allora vediamo chi è il suo ultimo vediamo chi è il suo ultimo togekiss ok allora lui se ci fa flare beats su venus hour noi prima non so se riusciamo a fare ancora quel danno vediamo un attimo quanto durano gli schermi sono finiti gli schermi no non sono finiti c'è ancora c'aveva la light clay qualcosa perché guardate quanto durano allora sto pensando se fargli il powder su incinerar o su togekiss io quasi quasi farei su togekiss a sto giro sperando di ettare vediamo un attimo ti prego grazie Yuri Boschetto che mi dà la potenza di ettare gli sleep powder con venus mamma mia ok lui dovrebbe fare flare beats e in teoria se non ci burna al sesh noi reagiamo al sesh si prende un recoil della madonna se ci burna siamo messi male ok è morto dal recoil morto dal recoil perfetto speravo morisse dal recoil effettivamente potrevo fare heat wave vabbè comunque qua siamo 2v1 poi ci sono ancora le fiamme di gigavampa quindi ci può stare farei heat wave vabbè farei faccio heat wave e sludge bomb tanto lui deve ha già dormito il primo turno boh se becca anche il secondo bene ma tanto comunque in ogni caso non è che non mi siamo heat wave di continuo ok ho beccato già il secondo turno di sleep vinta ok heat wave single target sotto sole oddio l'ha retto c'è sempre gli schermi ecco perché continua a reggere così tanto gli attacchi va bene va bene vinta anche la seconda devo dire che questa ce la siamo anche quella di prima in realtà ma anche questa ce la siamo giostrata bene io ve l'avevo promesso che avrei imparato a giocare man mano che che avrei continuato a registrare quindi direi che ci siamo ci siamo ci siamo quindi 2 su 2 anche oggi nel push to the top non capitava questo non capitava sì da un anno credo va bene va bene 2 win su 2 e e niente direi che per il video di oggi può essere tutto vi invito a lasciare sempre un bel mi piace in caso non lo avete ancora fatto chi è arrivato fino in fondo mi raccomando commenti con sonor fino in fondo anzi tutti dovete farlo e fatemi sapere cosa ne pensate di queste lotte ma devo ammettere anzi fatemelo sapere anche voi che probabilmente siete avete più occhio di me fatemi sapere se secondo voi lo giocate bene devo dire che onestamente non credo di ricordarmi come si giocava onestamente proprio detto francamente quindi fatemi sapere voi la vostra opinione e vi ricordo il prossimo video video speciale tra virgolette vediamo un attimo se lo riesco a registrare come si deve fare la miniatura bomba eccetera eccetera e basta basta ragazzi ci vediamo alla prossima con un nuovo video ciao a tutti ragazzi ciao a tutti